Sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo è imperdibile, i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Non pensavo sarebbe mai arrivato una notizia del genere, eppure, Avatar sta per uscire con una nuova serie tv. Piccola specifica, caso mai qualcuno si confondesse, non è Avatar, quello là con i puffi di quattro metri, con la coda con cui fanno cose strane, no, quella è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Intitolata La leggenda di Aang, un adattamento a live action della celebre serie animata omonima, e attesa in streaming su Netflix dal 22 febbraio. La serie è ambientata in un mondo immaginario diviso in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi, acqua, fuoco, terra e aria. La storia si apre in un mondo dove un tempo le quattro nazioni vivevano in armonia con l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi, e incaricato di mantenere la pace. Tuttavia, dopo l'attacco della nazione del fuoco, tutto il mondo cade nell'oscurità. Da qui inizierà una missione per salvare il mondo e combattere contro il signore del fuoco. La serie promette di offrire un'avventura fantastica e ricca d'azione, ricca di personaggi eccentrici e alleati lungo il cammino.